Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi voglio parlare della differenza che c'è tra manga e opera d'arte Però, però, io ve lo dico subito all'inizio del video Così poi non ci sarà nessuno che rompa i coglioni Queste cose che dirò sono tutte personali Cioè tutte cose che sento io quando leggo determinati manga Quindi magari per voi, quel manga di cui io posso definirlo un'opera d'arte Per voi è una merda Può essere, può essere Quindi è una cosa soggettiva, è una cosa mia E lo voglio condividere con voi Se magari trovo qualcuno che anche lui pensa la stessa cosa di un manga E ne possiamo parlare, tranquillamente Quindi non offenderò nessun mangaka Anche perché sono mostri sacri E chiaramente io non sono nessuno per poter offendere O comunque dire qualcosa contro queste persone, assolutamente Sono tutte opere che mi piacciono Però sono opere che non considero opere d'arte Almeno alcune Iniziamo ragazzi, iniziamo con il primo esempio Il primo esempio prenderemo One Piece e GTO Una delle due, chiaramente, secondo me è un'opera d'arte E iniziamo con One Piece One Piece bellissimo, bello Io me lo dovrei leggere ma con tutto il resto di roba che ho da leggere ci metto un po' Comunque One Piece bello Nell'anime sono rimasto parecchio indietro Ma perché non mi va tanto di seguirlo Però comunque One Piece bello Non dico assolutamente niente, molto molto bello Però non è assolutamente un'opera d'arte Perché One Piece tu te lo leggi A posto, letto, metti sullo scaffale A posto, aspetti tra tre mesi il nuovo Punto Questo è GTO GTO ragazzi Quando io ho letto GTO Shannon June i Gumi I primi volumi, perché poi mi sono dovuto fermare Ma comunque quando ho letto i primi volumi di GTO Shannon June i Gumi Mi sono, sono entrato dentro la storia E ve lo giuro, non ci ho fatto caso Non facevo caso alle pagine che sfogliavo Al tempo che ci mettevo Non ci pensavo, ero proprio dentro la storia Mi piaceva veramente molto Cioè mi immedesimavo magari dentro un personaggio Era questo, questa è la differenza tra opera e opera d'arte O comunque manga e opera d'arte Perché tu devi entrare dentro la storia Devi sentire magari quello che sentono determinati personaggi Io lo so Che se questo video lo vede un esterno Quindi uno che non si intende di manga O comunque non li legge Puoi dire guarda quelli è un coglione Senti che cazzate che sta dicendo E posso darne anche ragione Perché non l'avendo mai letto Non l'avendo mai sentito Queste cose È ignorante sulla questione Però io so Io lo so Che qualcuno di voi È riuscito A entrare dentro un manga E farselo piacere Magari è anche diventato il suo manga preferito Però è una cosa veramente soggettiva Quindi io non voglio assolutamente offendere nessuno Però ho ripensato a una cosa Ci ho pensato qualche istante fa Che potrebbe essere il fatto Almeno per me Che le storie realistiche Mi facciano questo effetto Perché con GTO l'ha fatto Con Eppi l'ha fatto Cioè con Eppi è stata una cosa Incredibile Cioè io avevo buone aspettative su Eppi Perché tutti ne parlavano bene Chiaramente non avendolo letto Non posso dire a prescindere È bello o è brutto Ho letto il primo volume Ed è stato la fine È stata la fine ragazzi La fine Bellissimo Bellissimo Mi sarei letto 100 volumi di Eppi Me li sarei letti tutti Cioè Urasawa a disegnare È un mostro C'ha il suo stile chiaramente E a creare le storie Ancora di più Ancora ancora di più Un altro esempio ragazzi Prendiamo A Silent Voice A Silent Voice Bellissimo Anche a Silent Voice Magari non per tutto il manga Ma anche a Silent Voice Mi ha fatto entrare Dentro la storia Però Come vi ho detto prima Potrebbe essere una questione Di realtà Nel senso Una GTO Può essere reale Eppi Può essere reale One Piece Non può essere reale Avete capito la differenza Forse Per me È una questione di realtà Se una cosa Può essere reale Mi riesco a immedesimare Meglio E riesco a entrarci Meglio dentro la storia Però Con La figlia dell'otaku Che è bellissimo Anche quello Non l'ha fatto Non l'ha fatto per niente È stata una lettura normale Come può essere un manga Di tutti i giorni Quindi Non so esattamente Cosa scatti Nel momento in cui Tu Trovi un'opera E dici Questa è un'opera d'arte Perché riesco Veramente a entrarci dentro Mi dico anche Perché Mi è venuto in mente Di fare questo video Una settimana No Due settimane fa Stavo leggendo L'ultimo volume Di GTO Paradise Lost E l'ha fatto Sì Sono riuscito A immedesimarmi A entrare Dentro GTO Paradise Lost Che chiaramente Non può Cioè È un'opera d'arte Quel volume Secondo me È un'opera d'arte Fatto bene Ci sono riuscito a entrare Ma non vuol dire Che tutto Paradise Lost Sia bello Quel volume lì Mi ha fatto entrare Dentro la storia Anche gli altri Erano belli Ma quello Non lo so Ma ha dato qualcosina in più Io raga Vi dico la verità Non so mai Se sto video lo vedrete Ma per un motivo Molto semplice Perché È difficile Far arrivare un concetto A una persona Che magari Non ha provato Le tue stesse sensazioni Che magari Sì Le avete provate Ma ripeto Per altri manga O per altri fumetti Dipende da quello Che vi piace leggere È veramente difficile Io vi ho voluto Dire questa cosa Perché Secondo me C'è Differenza Tra manga E opera d'arte E quindi Per adesso Per adesso Questi Sono i manga Che a me Mi hanno fatto Entrare Dentro la storia GTO A Silent Voice Happy E per adesso Se non me ne vengono altri Ma comunque Questi tre Per adesso Ripeto Tanti manga Sono belli Naruto è bello One Piece è bello Bleach Lascia stare Cioè Avete capito Tanti manga Sono belli Sono fatti bene Ecco Un altro esempio Mi ti metti in questo istante Kenichi A me Kenichi Piazza tantissimo Manca tipo Due tre volumi Ed è finito E mi piace Veramente tanto Ma non mi ha mai Dato queste sensazioni Che poi Magari una sensazione Che mi ha potuto dare Un GTO Un Paradise Lost Un Happy Mai Anche leggendo Trenta volumi Di Kenichi Non mi danno La stessa sensazione Che mi da Un volume di Happy Comunque ragazzi Io Ripeto Spero che vedrete Questo video Adesso Quando lo monterò Vedo se Se sarà il caso Di caricarlo Sul canale E niente Il video Ve lo voglio concludere Qui Spero Di essermi spiegato Se non mi sono spiegato Chiedo scusa Ma Spero comunque Che sia arrivata Almeno a qualcuno Quello che volevo dire E niente Come sapete Se il video vi è piaciuto Un bel pollice in su Se non vi è piaciuto Chiaramente Pollice in giù E Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti